Sono 51 ma il numero è destinato a salire le Signore del Mare che quest'anno parteciperanno alla 25esima edizione del raduno delle vere d'epoca di Imperia. Un'edizione sicuramente più vivace rispetto a quelle passate. Abbiamo cercato di inserire delle novità su questa edizione per far star meglio gli equipaggi e coinvolgere la città. Ci sarà una discoteca all'aperto enorme, ci saranno dei giochi in mare, ci saranno dei giochi a terra per coinvolgere i cittadini, le organizzazioni sportive imperiesi ma anche mettere insieme i cittadini e gli equipaggi. Quindi è una bella cosa. Ma poi c'è un inizio di collaborazione per gli Swam che è un po' la barca per eccellenza per chi va a vela in mare. Dal 2025 gli Swam storici, ma nell'attesa Imperia, è pronta a regalare ai equipaggi residenti, turisti e armatori una quattro giorni all'insegna del divertimento. Una città in festa che lentamente sta guadagnandosi un posto di tutto rispetto nel comparto turistico. Ricapitolando... L'inaugurazione dell'11 con il lancio dei paracadutisti, ma poi il 12 abbiamo questa giornata oltre le regate, l'inizio delle regate in mare che oramai sono un classico. Abbiamo nella serata il tiro la fune e i giochi in acqua. Il 13 abbiamo una mega festa in banchina aperta alla città dove ci saranno le danze, dove ci sarà una discoteca, dove si farà festa fino a notte tardi. E il 14 il classico serata dei fuochi ed artifici. E il 15 la sfilata e la chiusura con le regate e la chiusura e la premiazione del 15.